Oggi e domani funivia ok. Dopo il temporale che ha stoppato per qualche giorno il funzionamento della funivia del Gran Sasso, nel weekend corse irregolari dalle 8 alle 18 ogni 30 minuti sia in salita che in discesa. I fulmini avevano danneggiato le schede elettriche, ma ieri c'è stato un grande lavoro da parte dei tecnici che hanno riparato e anche tarato gli apparati. Problema superato, ma lunedì e martedì la funivia sarà comunque chiusa per effettuare i soliti controlli imposti dalla sfisa per consentire il funzionamento dell'impianto a fune. La buona notizia è che dopo i lavori di revisione questi inconvenienti tecnici dovrebbero essere superati con l'installazione di dispositivi di ultima generazione. Nel frattempo però la navetta sul Gran Sasso è stata ripristinata per collegare Fonte Cerreto a Campo Imperatore. Procede intanto la parte burocratica per arrivare alla prossima sostituzione delle funi. Per ora c'è la proroga, ma il Comune ne chiederà un'altra per la stagione invernale perché la partenza dei lavori ha bisogno di diversi passaggi. I lavori infatti dovrebbero partire in primavera anche per avere tempo migliore, 4 milioni di euro già in cassa e la speranza di superare pian piano tante difficoltà che hanno caratterizzato il Gran Sasso in questi ultimi anni. Tutto ripristinato dopo il temporale dell'altro giorno e il fulmine che ha colpito una scheda elettronica. Quindi funi via in funzione, sabato e domenica alla grande, pieno di gente già da stamattina. Quindi tutto a posto per quanto riguarda il danno del fulmine. Lunedì e martedì staremo chiusi per manutenzione che rientra nel cronoprogramma condiviso con il Ministero dei Trasporti per una serie di impegni che dobbiamo mantenere e quindi una serie di documentazioni che ci daranno la possibilità di ulteriori proroghe. Per quanto riguarda lunedì e martedì sarà ripristinato il servizio navetta, quindi ringrazio la pronta disponibilità dell'amministrazione comunale, dell'AMA e del centro turistico. Quindi tutto a posto per il fine settimana. Domani vi aspetto per la gara non competitiva di ciclismo dalla base della funivia a Campo Imperatore. Lunedì e martedì navette che ci porteranno su.